Ciao a tutti popolo del tubo e benvenuti in questo nuovo test mod, un test mod per console e per pc. Non è mia abitudine fare i test mod sulle mod decorative, cioè su quelle mod che non hanno alcuna funzione nel gioco e che spesso sono totalmente soggettive, cioè la decorazione è un gusto personale, quello che può essere bello per me può essere brutto per un altro e viceversa. Ma questa mod secondo me è diversa, è una mod che nonostante non abbia alcuna funzione, tra virgolette, perché poi in realtà una funzione ce l'ha anche se solo visiva, ma appunto nonostante solo una mod decorativa, secondo me può piacere a tanti e aggiunge quel piccolo tocco di realismo a chi cerca di simulare al massimo appunto la realtà. Prima di cominciare io vi invito sempre a lasciare un bel like, ad iscrivervi se non siete iscritti e ad attivare la campanellina. Vi ricordo che in descrizione ci sono i miei social, la mia piattaforma viola dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere e se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente. Dice come faccio Robby? Vi basta venire nella mia live, fare punto esclamativo Prime, anche quando la live non c'è, e il bot vi dà la guida in italiano ufficiale di Amazon per farlo. E poi ultimo ma non meno importante, la mia affiliazione Giants. Se siete da PC, perché purtroppo si può fare solo da PC e volete aiutarmi a raggiungere la partner Oro, e beh amici potete farlo preordinando Farming Simulator 25 dai miei link senza alcun sovrapprezzo. Ragazzi, questo è molto importante, grazie a tutti quelli che hanno acquistato e quelli che acquisteranno dai miei link. Ma andiamo a vedere un po' la mod. La mod non è altro che un impianto di irrigazione decorativo, cioè, non essendoci ovviamente l'umidità in Farming 22, non essendoci lo stato di irrigazione, non essendoci l'acqua, tutte quelle robe là, è tutto figurativo. Però è un qualcosa che secondo me aggiunge un tocco in più al gioco. Voi una volta installata la mod, che ovviamente trovate qua sotto in descrizione, la trovate appunto in decorazioni, ok? Perché è in tutto e per tutto una decorazione, come se fosse un cespuglio, eccetera, eccetera. Dovete andare in altro, quindi decorazioni, altro, ed ecco qua, al costo di 10.000 euro trovate questo impianto di irrigazione posizionabile, con questa pompetta a bordo campo, che fa funzionare il tutto. Attenzione ragazzi, è molto importante togliere lo spianamento, quindi dovete sull'F1, vedete lassù in alto l'F1 aperto, dovete cliccare cambia a modalità libera, dovete assicurarvi che sia sì, perché altrimenti la mod vi spiana il campo, fate un macello, cioè crea uno scalino, quindi è molto importante avere modalità libera, sì. A questo punto ragazzi voi cercate di vedere dove sono i cosini per l'irrigazione, in modo da ficcarli nel campo, ecco fatto, vedete? Una volta attivata, una volta attivata, poi voi ne potete mettere più di uno nel campo, ovviamente per coprire tutto il campo. Io avrei messo, l'avrei fatto singolo, però evidentemente nel progetto del modder non si poteva fare col paletto singolo, e ha optato per questa roba qua. Io però l'avrei messo a paletto singolo, sarebbe stato decisamente più bello. Però come vedete, in mezzo al campo adesso vi vengono spawnati questi tubicini dell'acqua, vedete? Questi bei tubicini che vanno a simulare l'irrigazione nei nostri campi. Io adesso ho usato un campo di mais, perché so che queste cose si fanno principalmente sul mais, ma ovviamente potete metterle un po' dove volete. Ci sono due pulsanti, il primo pulsante è vicino alla pompa, che va appunto a simulare l'attivazione della pompa. Quindi voi fate action start on, e come vedete, nel momento in cui voi fate action start on, vi apparirà il tasto start per l'irrigazione. Perché se voi fate off, la pompa è spenta, la maniglietta per aprire l'acqua non è appunto disponibile. Nel momento in cui voi invece accendete la pompa, peccato che la pompa non abbia alcuna animazione, sarebbe stato molto bello vedere l'animazione della pompa che girava, eccetera, eccetera, però nel momento in cui voi attivate la pompa, si apre anche la possibilità di aprire il rubinettino dell'acqua. Voi venite sul rubinettino dell'acqua, l'attivate e vi si accenderà tutta l'irrigazione. Ci vuole un attimo, ovviamente, come nella realtà non è che l'acqua arriva immediatamente, ci vuole un attimino e poi l'acqua spawnerà. Come vedete, dopo che è passato qualche secondo, si attiverà. Attenzione, ragazzi, non mi scrivete, ma non funziona, ma non funziona, ragazzi. Dovete attendere una decina, quindici, a volte anche venti secondi. Non ho ben capito da cosa dipende questo tempo d'attesa. Forse è una cosa veramente voluta dal modder, no? Che nella realtà ci mette un po' l'acqua ad andare. Ma come vedete, una volta che voi avete fatto tutto nel modo giusto, si attiva questo sistema di irrigazione. Adesso ve lo faccio vedere anche dal menu, che è più carino, così riusciamo a volarci sopra. Vedete? Vedete che carino. A me, ragazzi, piace. È una cosetta molto carina, molto realistica. Ripeto, non aggiunge nulla alla resa, alla cultura, al campo. È solo una robina figurativa che però mi piaceva portarvi. Mi faceva piacere portarvi perché sono sicuro che a tanti piacerà. Ora, io voglio sapere nei commenti a chi di voi piacerà questa mod. Secondo me è molto carina e molto patatina. Fatemi sapere cosa ne pensate, se la userete, se non la userete. Insomma, voglio sapere la vostra. Vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Lasciate il likeino se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!